Le altre due terapie delle quali ci occupiamo, gli altri due tipi di interventi, sono il cosiddetto metodo comportamentale e la terapia occupazionale. Andando in ordine, il metodo comportamentale è basato sugli stessi criteri teorici e fondamentalmente sugli stessi tipi di intervento, dei quali abbiamo già parlato quando ci siamo occupati degli interventi sostitutivi e punitivi di persone affette da disabilità che hanno metto in atto dei comportamenti problema. Il metodo comportamentale infatti è finalizzato a modificare, o a cercare di modificare per quanto possibile, proprio quei comportamenti particolarmente inadeguati che l'anziano tende a mettere in atto e che in realtà non sono dovuti ad una consapevole volontà della persona di mettere in atto, ma sono proprio delle manifestazioni sintomatologiche del tipo di demenza della quale appunto è affetto. Tra le demenze infatti ce ne sono alcune, come per esempio quelle di tipo frontotemporale, che colpiscono proprio le aree cerebrali che consentono normalmente il controllo delle emozioni e quindi di conseguenza dei comportamenti, e nel momento in cui questo tipo di controllo viene allentato o diventa addirittura impossibile, chiaramente la persona tenderà a mettere in atto dei comportamenti che non sono più adeguati rispetto alle situazioni nelle quali ci si trova. Per comprendere però se un comportamento è effettivamente tale, problematico, quindi da meritare un intervento, è necessario prima procedere attraverso un'attenta osservazione. È fondamentalmente lo stesso tipo di criterio dell'analisi funzionale. Si basa quindi sull'utilizzo di griglie di osservazione sistematica, all'interno delle quali vengono annotati determinati comportamenti predisponendo la griglia in modo da rilevarne la durata, la frequenza, l'intensità. Una volta che l'osservazione è stata condotta, si procede alla riflessione sui risultati, quindi sui dati che sono stati rilevati, e si cerca quindi di capire se ci sono dei comportamenti che appunto meritano un intervento specifico da parte degli operatori. Nel momento in cui questi comportamenti effettivamente vengono valutati come problematici, si interviene appunto attraverso le strategie tipiche del metodo comportamentale, e cioè predisponendo innanzitutto una sorta di alleanza positiva con l'utente, che viene chiamato in questo caso contratto di contingenza, nel quale si spiega all'utente quali sono le principali problematiche a livello comportamentale che sono state osservate, e quali saranno quindi le modalità attraverso le quali si agirà, si interverrà, per cercare di risolvere la situazione. Quindi non deve mai accadere che un tipo di intervento venga inteso, percepito dalla persona anziana, come qualcosa di inaspettato o di calato dall'alto. Dopodiché si agisce attraverso le strategie dei rinforzi, positivi e negativi. La strategia del rinforzo positivo fondamentalmente consiste nel rinforzo vicario, quindi per esempio la persona viene premiata da un punto di vista sociale, attraverso congratulazioni, nel momento in cui appunto mette in atto un comportamento corretto, e anche naturalmente attraverso il metodo della token economy. Quindi anche in questo caso si stabiliscono un insieme di premi, sotto forma di fischi per esempio, al raggiungimento di una quantità tale che consentirà poi alla persona di avere qualcosa che desidera in maniera particolare. Può essere per esempio un cibo, può essere una bevanda, può essere la possibilità di vedere un film o di svolgere una determinata attività. Naturalmente dipende dal fatto che la persona sia inserita in una struttura residenziale o semiresidenziale che sia, o che invece la persona quindi viva all'interno delle mura domestiche. I rinforzi negativi invece sono quelli che si basano sul costo della risposta e sul time out. A prescindere però da queste strategie di intervento, la cosa fondamentale è l'approccio relazionale che gli operatori devono necessariamente avere nei confronti della persona anziana malata. Perché è chiaro che si deve riconoscere non soltanto lo stato di malattia della persona, ma soprattutto si deve riconoscere lo stato di persona dell'individuo, e quindi cercare di valorizzarla per quello che la persona è, senza colpevolizzarla, senza perdere la pazienza, cercando di evitare quanto più possibile lo scontro nel momento in cui per esempio la persona diventa particolarmente pressante o anche aggressiva. Per quanto invece riguarda la terapia occupazionale, questa negli anni è stata sempre di più predisposta affiancandola agli interventi di riabilitazione di tipo fisioterapico. Infatti la terapia occupazionale viene svolta da dei terapisti che sono specificamente formati a questo tipo di terapia, esiste proprio adesso un corso di laurea triennale in terapista occupazionale, e consente di fare in modo che la persona possa recuperare proprio quelle competenze attive che possedeva già durante le fasi precedenti della propria vita e che a causa appunto della patologia si sono progressivamente perse. Si tratta quindi di andare a monitorare le risorse e residue che la persona ha a disposizione, andare a valutare quali sono le particolari capacità che possedeva, che aveva sviluppato durante il corso della propria vita, per esempio quelle legate alla gestione della casa, piuttosto che all'esercizio di un particolare tipo di mestiere, di attività lavorativa, professionale, ludica e così via, e quindi chiaramente è importantissimo il colloquio costante e continuo, quindi con i familiari della persona che naturalmente lo conoscono più degli altri, e fare in modo che possano essere proposte alla persona anziana, in particolar modo quando questa si trova all'interno di centri semiresidenziali o anche all'interno di strutture assistenziali di tipo residenziale, proprio delle attività che recuperino quel tipo di competenze che la persona aveva in modo che possano essere ripotenziate e quindi mantenute nel tempo. Naturalmente la terapia occupazionale mira soprattutto al mantenimento delle abilità della persona in quelli che sono gli ambiti fondamentali della vita quotidiana, e quindi quelli che sono legati alla cura di se stesso, quindi da un punto di vista per esempio di igiene personale, a quelle che sono legate agli aspetti comunicativi, relazionali, sociali e così via.